Finalmente, 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 si vince, andiamo così, sì, partita veramente da morire di infarto, da morire di infarto perché, sì, da morire di infarto per non dire altro, veramente, per non incazzarsi, torniamo a vincere con la Sampdoria 2-0, doppietta di Kutrovic. Allora, voglio dire poche cose, non voglio che il video venga lungo, non c'è neanche voglia di dire tante cose, però voglio dire poche cose ma voglio spiegarle bene perché, porca troia, non è possibile, cioè non è possibile che Gattuso non sappia fare i cambi. Ma cazzo, ma lui in panchina è da solo? No, c'è 50 altre persone là in panchina, ma uno di testa. Io ho detto, mancavano 7 minuti, 7 minuti. Alla fine della partita, non ha ancora fatto i cambi, fa un cambio e mette dentro Borini e tira fuori Paquetà. Tutto quello che ha sbagliato, tutto quello che poteva sbagliare l'ha sbagliato. Porca di quella troia. Tiri fuori Paquetà che, nuovo acquisto, oggi secondo me ha fatto anche abbastanza bene, si vede che ha un bel controllo palla, che protegge bene, ha un bel fisico, fa salire la squadra. A me è piaciuto, a me è piaciuto, non è che abbia fatto robe assurde, però a me è piaciuto sinceramente, perché ha un bellissimo controllo palla, si vede che è brasiliano, che è proprio il tocco. Ha provato a fare un po' di skill, ha guadagnato un po' di falli, forse non era proprio la sua posizione, ma infatti nel secondo tempo andava un po' più in alto e vedevi che ha tirato, faceva un po' salire la squadra. Tirando fuori Paquetà non abbiamo fatto più un tiro in porta, più un tiro in porta. Adesso te mi spieghi perché cazzo hai messo dentro Borini e hai tirato fuori Paquetà. Cioè hai messo dentro quello che non doveva entrare e hai tratto fuori quello che non doveva uscire, è proprio la cosa più sbagliata che potevi fare. Io da mezz'ora che da inizio del tempo continuavo a dire metti dentro Cotrone, metti dentro Cotrone. E infatti metti dentro Cotrone e doppietta. Metti dentro Cotrone e doppietta su Assis di Conti perché Abate tutta la partita non sa fare un cazzo di cross. Bent'anni che gioca a calcio e non sa fare un cazzo di cross. Cioè porca troia, noi abbiamo messo uno scudetto con Abate, ma porca troia, i cross, i cross Abate. Tralasciando i cross di Abate e così facendo doppietta Cotrone perché su Assis di Conti fa bella figura che tu uso. No, 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 ma ha sbagliato tutto perché così abbiamo perso la parte che abbiamo giocato un'altra mezz'ora in più che questa partita poteva essere tranquillamente chiusa mettendo dentro Cotrone. Ok? Perché oggi c'è visto Cotrone, è entrato a doppietta, basta finire la partita. Ok? E vorrei fare un applauso anche a Pepe Reina che oggi ci ha salvato il culo, il culo negro ci ha salvato, tutto ci ha salvato. Ha fatto due parate della Madonna. Dopo aver bruciato il primo tempo supplementare e aver fatto gol all'ultimo secondo, il primo tempo supplementare, ci ha salvato il culo, ha fatto di quelle parate assurde. Anche contro l'Olympiakos dove siamo usciti ha fatto delle grandi parate. Ma che cazzo stasera veramente era doppato, doppato era, veramente tutto ha parato. Se magari le tiravo pure una cannonata col mortaio o con la catapulta parava pure quella. Oggi veramente Reina assurdo, mostruoso, insieme a Bakayoko che anche oggi ha giocato come sempre molto bene. Gli esterni può desiderare, c'è la Noglu, Castille con luce e ombre. Però Magnoli è sempre presente, Zapata non mi esprimo perché per me è un brocco. Abate ha già detto che non sa fare il cross, Rodriguez ha giocato abbastanza bene a parte il giallo. E Paquetà, Paquetà secondo me vale quei 35 milioni, almeno quello che ho visto oggi. Perché c'è un controllo palla della Madonna, protegge palla, ha fisico, guadagna fare, fa salire la squadra. E poi cazzo, c'è, ha fatto tira di quelle saete che fa un film di spavento, c'è è uscito lui, non abbiamo fatto più un tiro. Comunque, mercoledì abbiamo, mercoledì, sì mi sembra, mercoledì abbiamo la finale contro la Juve. Se giochiamo così contro la Juve ne premiamo 5, 5 ne premiamo. Perché oggi abbiamo fatto veramente da ridere, soprattutto al primo tempo. Che sia chiaro, eh. Sì, non è che perché Iguain ha tirato fuori tanto così, eh, abbiamo giocato bene, no. Perché abbiamo fatto da ridere, da ridere, abbiamo fatto, ecco. E niente. Voi, ditemi cosa ne pensate della partita di oggi. Noi ci vediamo con il prossimo video dopo la finale, con il post partita della finale di Supercoppa contro la Juventus. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, belli e brutti.